Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador Ci siamo lasciati priva di accamparci per una nuova notte e continuiamo a perdere tesori e perdere provviste Siamo sempre in cerca di quella dannata donna che si è persa sulle montagne e non saprei più neanche tanto bene dove andare a cercarla Perché abbiamo esplorato praticamente la zona palmo a palmo E non ho proprio idea di dove possano essersi cacciati Là dietro la miniera mi pare che non ci fosse modo di andare Questi luoghi di interesse non so che cosa siano perché non sono effettivamente quei rituali che abbiamo incontrato Rituali, quei... come si chiamano? Quei laghetti Credo che non siano quelli Allora, qua cosa abbiamo? Allora, dobbiamo continuare dritto e poi salire in là Vediamo un po' Mangiate tutti i carni, prima o poi finiremo le provviste Mi sa che d'ora in poi, anche se fosse una sola unità Conviene Conviene metterla a conservare Perché qua le razioni diminuiscono sempre di più Allora, proviamo a salire di qua Vediamo questo luogo di interesse Questi luoghi di interesse che cosa possono essere Perché qua quando eravamo passati a prevolta eravamo anche senza il nostro medico di riferimento Qua dovremmo andare dritti, credo Allora, abbiamo una razione che resta Quindi farei che lui, allora, conserva quella unica razione E... E manderei un tizio in più a cacciare questo A cacciare Ottimo! Altre dieci unità Ottimo! Almeno ricopriamo un pochettino di razioni Prossima notte È sempre da questa parte il... Sì, mi sa di sì Qua non si vede proprio nulla Potrebbe essere là a sinistra E forse lo indica qua a sinistra Ma non posso passare di là E di qui su mi sa che non c'è niente No? Si va ancora in là? Mi sa Vediamo Allora, 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 no Non mettiamo... Mettiamo lui e... Pintado, conservare Ok, 9, 2, 11 Ottimo Tutti mangiano carne? Tutti mangiano carne Caccia 55 Metterei un altro a cacciare Eh, però se poi ci rubano le azioni No, facciamo così Ho perso 12 unità di medicina Porca miseria, stiamo tornando a mani vuote Oddio, una rissa tra i servitori Quando ti avvicini ti rendi conto che al centro c'è Alberto e Ceveria Gira petto nudo e intorno a due servitori feriti e furiosi che tirano pugni a destra manca Nel momento in cui rompi nella vischia tutti smettono di combattere i servitori si sparpagliano per l'accampamento Alberto rimane immobile con il fiatone Si asciuga la fronte con una manica e abbassa la testa in segno di rispetto Capitano Avete trascorso una bella serata Vero? Vi spiacerebbe dirmi cos'è successo? Ah, è ubriaco Ho fatto qualche commento di troppo solo a madre di qualcuno L'interessato è replicato con dei commenti sulla mia faccia E da lì le cose hanno seguito il loro corso naturale Esistono modi migliori per scaricare la tensione che non attaccare briga con i servitori, non credete? Sicuramente mi verrà in mente qualcosa, ma non c'è una ragazza nera e carina in giro Moderate le parole, Ceverria Sì capitano Avete bevuto troppo, andate a letto Direi proprio di sì che ho bevuto un tantino di troppo Cosa c'è? Allora, qua Ci sono posti che non abbiamo esplorato effettivamente di là Perché si può proseguire oltre da questa direzione, vero? Sì? Mi sa che quando ci siamo fermati che c'erano i... I tizi I... I... Taino Quando c'erano i Taino Mi sa che non abbiamo continuato a esplorare la zona E quindi Potrebbero essere qua nei dintorni Allora io andrei là Ad abbeverarmi così mi ripristino i movimenti E cercherei di capirne qualcosa di più Proseguire dritti? Proviamo a proseguire dritti Uh, 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 uh Mi sa che li abbiamo trovati, mi sa che li abbiamo trovati ragazzi Però andrei un attimo prima qua a prendere delle medicine Ahia Ahia, 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 mi sa proprio che sono loro Mi sa proprio che sono loro Mi sa proprio che sono loro No, vabbè, non andiamo a camparci accanto ai cadavri Campiamoci qua un attimo Ehm Tu conserva la carne, ma No, no, però aspetta No Due su due, no Quindi non conservare tu Conserva tu la carne Ok Solo sette unità di carne Porca miseria Ehm, andiamo a vedere cosa è successo In uno stretto passo di montagna Federico Quintero individua il luogo di una battaglia E scopre i resti di decine di soldati caduti Sono morti molte settimane fa A giudicare dal loro stato di decomposizione Gli stemmi sul loro equipaggiamento Indicano che si tratta di una pattuglia Delle truppe di Noriega E cercherai prima il medaglione di Luisa Poi rendiamo sicuro la zona Ordieni ai tuoi uomini di perquisire i cadaveri E di cercare un medaglione Dopo pochi minuti Juan Ortega Ti consegna un medaglione d'argento Macchiato di sangue rappreso All'interno c'è un ritratto di Marin Cocero Piccolo, ma accurato Senti risuonare la voce di Quintero Dal fondo del passo che si trova poco più avanti Capitan, Capitan Mazetess I nemici sono qui Ci stavano aspettando nella gola Quindi mi sa che ho fatto la scelta sbagliata Radunatevi intorno a me Portate i carri di rifornimento nella fonditura E preparatevi a combattere I tuoi uomini accorrono e si preparano all'imminente battaglia Con così poco preavviso E' a malapena il tempo di mettere relativamente al sicuro I carri di rifornimento Quando cominciano a piovere frecce I tuoi uomini sono ancora un po' disorganizzati Pribbio Qua Le prendiamo di brutto Ah, sono in cinque Allora scusate Tolgo Tolgo a Enrique Ruiz E do a E do a Isabella No Ci proviamo Quanti sono? Sei Porca miseria E corrono come dei disperati Mannaggia Mi sa che dovremmo ricaricare Ah, ci stanno circondando da entrambi i lati Porca Caccia Due Tre Quattro Cinque Ne manca una Dov'è l'ultimo? Ah no, cinque qua Ok Ah, io direi che dobbiamo tirare giù prima questo Allora No, andrei prima con quelli Corpo a corpo Allora Farei così Così E così Quello ci arriva al pelo Ma questo dovrebbe arrivarci Allora così Uno E due Mi sa che non ci muore però Quindi farei che Vado qua con il cacciatore Gli sparo E vediamo se riusciva ad attaccare A tirarlo giù così No Allora vai qua Vediamo se riesci a sparare Sì Ok Ok, ancora movimento Sì Allontanati Tu puoi ancora allontanarti Sì Questi no Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Aia No No Creepy Se mi vanno addosso con il corpo a corpo Sono messo male Devo salvare il cacciatore Allora Allora Che se vado là in soccorso dell'altro Rischio di prenderle di brutto da sta zona qua Forse mi conviene di più Eliminare i tizi qua Andiamo Colpo critico Ottimo Allora Questo lo allontano un attimo E Sparo Ottimo Così allora magari riesco a seccarlo con questo E riesco ad andare in soccorso Allora Se no vado qua E muovo gli altri Li muovo gli altri addosso Così che debba fare il tiro di opportunità Questo com'è che estordisci Ci starebbe di estordire qua Potevo andare a estordire l'altro effettivamente Andrei così e con questo provo a sparargli in faccia Mancato Mancato Cribbio e c'è Cribbio e ceveria Cribbio e ceveria Mi converebbe tirare giù questo Mi converebbe tirare giù questo Ottimo Ottimo Ok quello è andato L'unica cosa è che E ceveria ce lo perdiamo Tra un attimo Vado qua e sparo l'altro Difesa perfetta Ci proviamo Proviamoci E buonanotte La faccia Difesa perfetta Mancato No Pure avvelenato Porca miseria Mi ha beccato tutte e due le volte Col tiro di opportunità No tiro di opportunità Con il Allora Tu fai che andare qua Tanto sei praticamente morto E sparagli in faccia Poi Aspetta Lui lo manderei qua Come è mancato Puntavo tutto su quello Mi sa che Alejandro E' spacciato E infatti E ho poche medicine purtroppo Ne ho perse troppe Ultimamente Allora Farei che andare qua E sparare E mi sa che comunque Non riusciamo a tirarla giù No Bloccato Schiva No Farei così Almeno lei dovrebbe Sopravvivere Al prossimo giro Così E vai Ok Ok Yes Andato Solo Pintado Però grave Cribbio Un'altra cosa Isabella E Chi altro che aveva Pintato Ha perso Un equipaggiamento Trevino Trevino Ne ha solo due E E E Sopravvivere E A chi diamo L'altro equipaggiamento Lo diamo a Ruiz A cui l'abbiamo tolto prima Ok Allora esperienza ancora non siamo inseriti di livello Qua abbiamo Il medaglione Qui dobbiamo tornare poi a D'altizio Però vorrei cercare di finire di esplorare La zona delle montagne a questo punto Già che ci siamo Guarda che guardo solo Ok Ancora una decina di minuti diciamo di registrazione No aspetta Ottimo 9 di carne Allora così andiamo a pigliare un pochettino Di Proviste Visto questo giro Allora lui dovrà fare Erboristeria Trattamento Chi è che sta male Lui Allora Trattamento Mazzetesse Lui Facciamo altro Erboristeria Pintato purtroppo Il cacciatore Quello forte Quindi Proveremo a mandare un altro A cacciare Facciamo conserva Ah solo due Però conserva Lui invece conserva tutto Ma mi diminuisce parecchio La caccia E proviamo a vedere Ehm 8 unità di legname Allora qua ci sono dei kern Per caso Nei dintorni Senti no La quale sembra un sentiero Ma non si può imboccare Proverei a andare in questa direzione Uh ci sono delle altre erbe Ah ecco un kern Ottimo Allora Ci lanciamo di nuovo così Erboristeria 12 su coin Vabbè Non è così urgente Lui lo mandiamo anche a cacciare Ehm Lui ha bisogno ancora di essere curato Però abbiamo tanta carne da conservare Quindi direi Vabbè Lui conserva Questo non cacciare Allora Fai che conservare Mangiano già tutti i kern No Lui non può conservare Gli altri non sanno conservare Pop a pero Neanche lui sa conservare Ah no Perché non c'è più altro da conservare Vediamo Ho ottenuto solo 5 unità di medicina E solo 5 unità di carne Ma Meglio che niente Visto che ne abbiamo comunque trovata varie Da quei cinghialetti là Allora Ci mancano ancora 4 kern Delle montagne Qui cerchiamo di esplorare un pochettino la zona Prima di tornare appunto In direzione Qualcosa Ci deve essere della roba esplorabile Qua sulla destra Probabilmente O magari anche no Forse si perde nella foresta fine Allora Lui c'è quasi È lieve Vediamo un po' Caccia Ah no abbiamo erboristeria Andiamo ad erboristeria Visto che abbiamo tante medicine Lui lo mettiamo a cacciare Allora Ok Vediamo se riusciamo a Abbiamo preso dei tesori Porca miseria Però abbiamo Uh Pintato che si è rimesso completamente E abbiamo ottenuto 10 unità di carne Buono 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 Allora Facciamo ancora questa giornata Di esplorazione Qua mi sa che non si può andare oltre No Però si può proseguire in questa direzione Credo Ci sono dei kern qua No Non credo Allora 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 Mi sa che termina qui questo episodio Perché Non c'è altro da vedere Forse qua su Questo lato Ci saranno poi dei kern Può darsi Perché non abbiamo ancora esplorato bene No L'abbiamo esplorata questa zona Già in passato Forse O forse no Fatto sta che ci mancano comunque delle zone da esplorare Per forza Perché qua se sulla missione Ci dice che ce ne mancano ancora Quattro Boh Comunque Detto questo Ho perso che dove siamo noi Dove Credo vi siamo finiti Ah Sì Alla sotto Ok Claro Io vi invito a lasciare un mi piace Se l'episodio vi fosse piaciuto Iscrivetevi se per caso non lo è stato già fatto E lasciare un commento qui sotto In qualsiasi caso Detto questo Vi auguro una buonissima giornata Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti